Bambini spensierati sorridono curiosi, condividono, sognano, osservano, escono dagli schemi. Questa mostra fotografica è per loro e per i loro fratelli, quelli spensierati nonostante e comunque, che sognano di diventare supereroi. Questa mostra è un grande cerchio d'amore che unisce i bambini di tutto il mondo per il Centro Maria Letizia Verga di Monza, per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Children, the Circle of Love, al MUDEC Museo delle Culture di Milano dal 12 al 20 novembre. Grazie.